Buongiorno cari amici, negli anni 90 ho avuto il privilegio di conoscere e ascoltare il missionario americano Charles Greenaway che nel dopoguerra ha portato il messaggio del Vangelo negli stati africani del Burkina Faso, del Togo, del Benin e del Senegal. Una vita piena di avventure, di difficoltà, di persecuzioni ma anche di grandi miracoli. Tra le tante storie che Charles Greenaway ci raccontò ce ne fu una che mi rimase particolarmente impressa e voglio raccontarvela con le sue stesse parole. Nel 1946 vivevo in una capanna di fango in alto volta e stavo morendo con la febbre nera. Nell'Africa occidentale avevo già contato 126 tombe di missionari che non avevano raggiunto i 40 anni di età. Ero nella mia capanna, perdevo sangue, mi trovavo allo stremo, affetto da una tremenda febbre. Non c'era speranza, non c'erano medici, non c'erano medicine, non c'era nessun altro missionario, eravamo soli, mia moglie e io. Così chiamai mia moglie e gli dissi, non riesco quasi a parlare, morirò, ecco cosa devi fare per seppellirmi. Ed ella si sedette accanto a me sul letto tenendo in braccio la nostra bambina. Mi guardò e mentre le lacrime scorrevano sul suo volto mi disse, Charles, noi abbiamo fatto tutto quello che Dio ci ha detto di fare, abbiamo gettato il pane sulle acque, egli verrà, il pane tornerà a noi. Proprio in quel momento sentite le voci che cantavano, c'è potenza, potenza nel sangue di Gesù, c'è potenza nel prezioso sangue di Gesù. Guardai attraverso un buco della capanna e vidi circa 300 persone. I tam tam suonavano e tutti cantavano, c'è potenza nel sangue di Gesù. Chi erano? Erano il pane che avevamo gettato sulle acque. Arrivarono in quel campo e si radunarono intorno alla capanna e dissero a mia moglie, signora, vostro marito è venuto, ci ha parlato di Gesù e noi siamo stati salvati, ci ha parlato della guarigione e Dio ha guarito molti di noi. Non abbiamo mai pregato per nessuno, ma pregheremo per Lui. Così si disposero intorno al mio letto con la faccia a terra, su quel pavimento così sporco, e cominciarono a piangere, a pregare e le loro preghiere giunsero fino al cielo. Dio avvertì il profumo della loro preghiera e dalle porte della gloria guardò giù e disse agli angeli, è Greenway. Dio conosce il nostro nome. Dio è presente al funerale del più piccolo dei volatili. Dio ci conosce, ci chiama, non c'è da dubitare. Quando Dio stende la sua mano, l'inferno non può trattenerla, perché egli è la resurrezione e la vita. Egli è la potenza, la gloria, la grazia infinita, la speranza ed il più grande dottore. Egli scese con la sua potenza in quel torrente di guarigione mi raggiunse e fui completamente sanato. Che bella storia, vero? Nel libro dell'Ecclesiaste leggiamo queste parole nel capitolo 11 al versetto 1. Getta il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo lo ritroverai. Era un'immagine presa dall'agricoltura quando il seminatore gettava il prezioso seme, il pane della sua famiglia, nella terra bagnata dalle grandi piogge, per poi ritrovarlo cresciuto alla mititura. Il pane che Charles Greenway e sua moglie avevano gettato sulle acque, che nella Bibbia sono l'immagine, il simbolo dei popoli, era il seme del Vangelo. Un seme seminato con lacrime, con sacrifici, ma che anche dopo molto tempo può portare il suo frutto. Se conosci le parole del Vangelo ricordati che sono pane da gettare sulle acque. Con questa riflessione ti auguro una buona giornata e che il Signore ti benedica. Grazie a tutti.